Un corazzato nemico danneggiato! Li abbiamo danneggiati! Bel colpo! Veicolo nemico distrutto! L'abbiamo preso! Li abbiamo danneggiati! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Un corazzato nemico danneggiato! Richiedo supporto! Li abbiamo danneggiati! Li abbiamo danneggiati! Li abbiamo insegnati! È entrato! Beccato! Un corazzato nemico danneggiato! Colpito! Bel colpo! Veicolo nemico distrutto! Un corazzato nemico! Ho bisogno di aiuto. È rimbalzato. Abbiamo un cingolo danneggiato. Agganciato. L'abbiamo preso. Cambio obiettivo. Agganciato. L'abbiamo preso. Cambio obiettivo. Mi abbiamo danneggiati. Corazzato nemico danneggiato. Corazzato nemico distrutto. Corazzato. Macro il centro. Sì! Sì, è entrato! Mi abbiamo danneggiati! Sì, è entrato! Sì, è rimbalzato! È entrato! Corazzato nemico distrutto! Speccato! Sì, è entrato! Attenzione! Retirati! Sì, è entrato! Mi abbiamo danneggiati! Sì, è entrato! Sì, è entrato! Mi abbiamo danneggiati! Sì, è entrato! 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 Autore dei sorrisi